Io farei in questo modo, farei servire qualche cosa da bere, qualche stuzzichino e nel frattempo il microfono è a vostra disposizione, chi vuole farci qualche domanda sul programma, su quello che pensiamo, se siamo dei pazzi da legare perché vogliamo sfidare o abbiamo usato sfidare queste grandi potenze, Davide e Golia, però non darsi che si ripete quello che è accaduto nella storia e quindi vinciamo noi, chi vuole fare qualunque tipo di domanda il microfono è a disposizione, intanto però possiamo servirci.